Allora c'è una canzone che portai con l'Equipo 84 a Sanremo nel lontano 15-18 eravamo in coppia con un grande cantautore piccolo, peloso, che non c'è più vorrei cantare tutto l'inizio con voi, la canzone si chiama e fu una canzone censurata, io ve la faccio in versione originale chiudete le orecchie ai bambini sul finale, sul finale la canzone è 4 marzo 1943, Lucio Dallo e Equipo 84 a Sanremo dice che ero un bell'uomo e veniva parlavo un'altra lingua e quel giorno lui prese a mia madre ragazzi se fate un gruppo e vi proponete a Sanremo vi pigliano credo così lei resta sola nella stanza, la stanza sul porto con l'unico vestito, ogni giorno più corto e benché non sapesse il nome e neppure il paese mi aspettò come un dono d'amore fino all'ultimo mese compiva 16 anni quel giorno la mia mamma le strofe di taverna le canto a Ninna-Namma e stringendomi al petto ne sapeva, sapeva dei mari giocava alla Madonna col bimbo da fasciare e forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore e la sua breve vita ricordo il ricordo più grosso e tutto in questo nome che io mi porto al corso e ancora adesso che gioco al cante e per romino e per romino per la gente del porto io sono Gesù bambino e ancora adesso che gioco al rubo e per romino per i raggi e le puttane sono Gesù bambino Gesù bambino Gesù bambino e l'uomo e l'uomo e l'uomo Grazie a tutti.